Benvenuti su Tg7 Basilicata. La task force regionale comunica che ieri 26 gennaio sono stati processati 781 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 76 e fra questi 73 residenti in Basilicata sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono guarite 84 persone. Sono 15.204 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, i morti 467.